...le mie gironchia... Dio, com'è profonda la tua sensibilità... Dai, io sono un artista, non una nullità come te... Io scrivo di nascosto frasi insulze su monumenti, poesie sporche... Dipingo... Uccelloni necessi... Io le donne prendo abbottigliate nei denti... Sei temero... Posso darti un calcio sulle gengive? Oddio, ma tu sei un uomo della sensibilità squisita... Tesoro, ho una richiesta... Mi metti la mano sulla lampo dei pantaloni? Che animo gentile... Oddio... La vita mi fa schifo... Si, mi fa schifo... La gente pensa solo all'odio... Non sa che esiste anche l'amore... Mi puoi sposare? Si, si amore... Si amore... Tu sei un genio... Sei geniale... Sei geniale... Così all'estano userei per sempre le mie saurose bonde scureggie... Geniale... Geniale... Sei un uomo geniale... Sei un uomo... Geniale... Tu mi riguarda Shakespeare... Non fare l'unico' Creatori... Non fare l'ultimo... Si... Sì... Si... 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 Amore... Si a questa volta, con set dipli... Giogno, il volo platinumino… Non ciiego lui... Non ciiego che gli ultimi... No, ciiego bene... Dis thirsty L'ebaio... Esi stavi a guardare... Grazie per la visione! 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 Certo. E da bere consiglio una buona bottiglia di vino bianco e il dolce della casa preparato dal nostro appasticciare francese. Ottima idea. Signore, signore. E ora la versione librata. E ora la versione pentolata. E ora la versione. Che cazzata. E ora la versione telepatica. E ora la versione. Grazie. Abbiamo un lavoratore dei nostri giorni e il suo fidato psicologo. Prego. Non puoi parlare, parla lo psicologo. Sì. Dunque, sono due anni che ho preso il cura a questa spazzatura umana, con i suoi usi e costanni. Ecco, quindi la sua è una missione puramente esperienziale. Esatto, esatto. Fino a due anni fa tenevo in cura cammelli e pietre della Val Camonica. Poi a un certo punto mi si è aperto il cuore. È giusto, è giusto studiare nel dettaglio dove possono arrivare questi esseri umani, con il lavoro, il progresso e l'economia. Ma la cosa che io trovo bella da parte dello Stato è la messa in regola di questi pezzenti. Oggi pagano i 7,40, l'otto per mille, le multe, il gas, il telefono. E naturalmente la spazzatura. E naturalmente la spazzatura. Questa è l'integrazione. Ma quant'è il guadagnonetto di questi accattoni? Circa 50 centesimila. E come fanno a pagare tutte queste imposte? Ah beh, è un problema che non mi riguarda. Se non pagano c'è la galera. È tutto al loro sfavore la difficoltà e il loro mestiere. E queste sono cose belle, ma voglio dire, in un periodo in cui architettura, ingegneria, economia, stanno venendo meno, la creatività è una competenza necessaria sul posto di lavoro, no? A questo punto faccio un appello a voi. Rimbocchiamoci tutti le maniche e andiamo a chiedere le lemosi, no? E su, non diciamo che... Rimbocchiamoci tutti le maniche e andiamo a chiedere le lemosi, no? Rimbocchiamoci tutti le maniche e andiamo a chiedere le lemosi, no? Rimbocchiamoci tutti le maniche e andiamo a chiedere le lemosi, no? Rimbocchiamoci tutti le maniche e andiamo a chiedere le lemosi, no? Grazie a tutti. 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 Oh boy. Grazie a tutti. Sono vivo. Sono vivo. E' scaduta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.